Siamo in compagnia di Elisabetta Zodo, argento alla Coppa delle Regioni Paradressage, anche nel tuo caso congratulazioni innanzitutto. Grazie, grazie molte. Com'è andata? È andata benissimo, è stata un'esperienza incredibile, sono veramente contenta dei risultati che ho ottenuto. Allora, oltre a te e ad Erika che abbiamo sentito poco fa, c'erano anche altri due partecipanti, giusto? Sì, Elisabeth Lebani e Giuseppe Bagani. Ecco, tu solitamente dove ti alleni e con chi ti alleni? Allora, mi alleno all'Agres Sport di Cislago, Massina di Cislago, il mio allenatore è Alexis Sempi, ho anche un'altra istruttrice che è Marinella Mantegazza e niente, mi alleno una volta a settimana, il venerdì. Da quanto tempo si può chiedere? Sì, un'oretta circa di lavoro. Senti Elisabetta, da quanto tempo è che monti, da quanto tempo è che ti sei avvicinata alla disciplina equestre? Allora, dunque io ho iniziato a montare da ragazzina con la riabilitazione equestre, poi è passato un po' di tempo, c'è stata una pausa, dopodiché ho iniziato con lo sport vero e proprio da circa quasi quattro anni. Senti, che sensazioni ti dà, che emozioni ti dà? Tante, infinite, sono sensazioni indescrivibili che solo nel momento in cui sei nel rettangolo capisci, provi, sono veramente indescrivibili, uniche e belle. Elisabetta, come si chiama il tuo cavallo? Allora, si chiama Complice della Ferleta, è un cavallo del 95, però non è il mio cavallo. Ai 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 ai! Eh sì, no, è il cavallo dell'associazione per cui monto e praticamente niente... Sei senza cavallo, facciamo un appello? Sì, facciamolo! Sì, sono senza cavallo, però comunque ho questa immensa fortuna di poterlo montare e appunto avere un'associazione dietro che comunque mi supporta. Allora, Elisabetta, intanto in bocca al lupo per le tue prossime gare, hai intenzione di farne ancora molte? Ma mi auguro di sì, mi auguro di sì! E in bocca al lupo per tutto, dai, buon proseguimento! Crepi, crepi il lupo, grazie! Grazie da Francesca Caglien per l'opinione equestra, è tutto!